Sarà un Messina Catania anche all'insegna degli ex. Non solo Lomonaco e Argurion nel menù degli incroci, ma anche Gianluca Musacci, regista di centrocampo transitato da Catania nell'ultima stagione di Lega Pro. Un'annata tra alti e bassi, quella del playmaker toscano costellata da problemi fisici e forse anche poca fiducia in momenti caldine della stagione. Un anno di contratto più opzione per un rinnovo mai esercitato per lui che a giugno ha salutato Catania per accostarsi nell'altra sponda della Trinacria dove ha cominciato la stagione con un piglio diverso. Sono cinque le gare finora di campionato disputate dall'Exempoli che ha iniziato anche con la fascia di capitano al braccio. Fiducia ritrovata insieme alla Verbi in campo per lui che ha scontato anche due giornate di squalifica per qualche parola di troppo all'arbitro nella gara contro la Juve Stabia. Dunque non sarà un ritorno qualunque al massimino per Musacci che l'anno scorso arrivò con grandi ambizioni individuali e complessive ma che si ritrovò insieme a tutta la squadra sommerso da pressioni e critiche. Il massimino sarà un duro banco di prova per lui e per il Messina, reduci da una pesante sconfitta interna contro la Paganese. La voglia sarà quella di dimostrare di poter spugnare uno dei terreni più difficili della Lega Pro e magari togliersi anche qualche pesante e ancora rabbioso Sassolino dalla scarpa.